Allora aspetta che guardi il calendario perchè ho andato a mangiare il pesce fritto Qua a Renata e a Franca, ma dite guardare un sabato, allora sabato 17 novembre niente ciò, sei al Dina Orsi del Conegliano, niente sei là, sabato 24 niente sei a Vittorio Veneto, e ciò cosa ti va, tutti chi ne domanda, tutti chi ne cerca perchè neanche semmo il Betonighe e vi ricordo che Betonighe se nasse non se ne veda Allora aspetta, se non devo mangiare il fritto mi rispetto tutti al Dina Orsi sabato 17 novembre Mi altre, mi a Silvana, a Renata e a Franca e Betonighe quevere Ciao bei, vi rispettevo tutti Ciao 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 Grazie.